Papà, ma cosa c'è nella bici della merenda parmareggio? Fatelo dire dalla mamma Che c'è il parmigiano Con i grissini e il fulato È la merenda perfetta È la bici della merenda Parmareggio Solo con la bici della merenda parmareggio L'originale mi sento tranquilla Perché c'è il parmigiano ed è equilibrata E da oggi per i più grandi C'è anche la bici maxi Grazie